Ben trovati a tutti qui su Emilia Romagna Meteo da Andrea Raggini. La situazione meteorologica per la giornata di sabato 2 dicembre vedrà un tempo variabile a risveglio. Infatti avremo nuvolosità sparsa e la possibilità di qualche scroscio di pioggia prettamente sull'Appennino tra l'Emilia Orentale e la Romagna ma anche sulle basse pianure al confine con Veneto e Lombardia. La situazione meteorologica inizierà a migliorare dai settori più occidentali con l'arrivo di schiarite via via più ampie anche se il tempo potrebbe risultare a tratti instabili ancora sull'Appennino e sulle basse pianure al confine con il Veneto. Ma le schiarite aumenteranno questo anche grazie alla ventilazione moderata ma a tratti molto forti che arriverà da sud-ovest. Questa volta colpito il Bolognese e la Romagna qui con raffiche anche superiore ai 90 km orari fino alle prime aree di pianura. Poi la ventilazione ruoterà da ovest a partire dalle pianure dell'Emilia e verso la costa ferrarese poi nella Romagna. Quindi la rotazione della ventilazione in Romagna è solamente tra la tarda serata e la notte. Il tempo tornerà a essere prettamente stabile entro la serata anche se nella notte tra sabato e domenica ulteriori precipitazioni non saranno da escludere in Romagna. Durante la giornata di sabato avremo la quota neve in calo quindi potrebbe tornare a nevicare sul nostro Appennino specialmente in Emilia sotto i 1600 metri di quota. Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 11 e picchi ancora di 15-17 gradi sulla Romagna per via della ventilazione di caduta dall'Appennino. Mare molto mosso. Per quanto riguarda invece la giornata di domenica 3 dicembre avremo un risveglio decisamente più freddo. Le temperature minime scenderanno localmente sotto lo zero specialmente sulle aree centrali dell'Emilia. Le temperature massime saranno in calo e comprese generalmente tra 8 e 12 gradi. Giornata in gran parte soleggiata anche se come detto poco fa qualche addensamento specialmente in mattinata sulla Romagna non sarà da escludere. La nuova settimana poi inizierà con schiarite ma attenzione perché la numerosità andrà gradualmente ad aumentare per l'arrivo di una perturbazione da ovest. E qui c'è una grande novità perché il calo delle temperature che avverrà proprio tra domenica e lunedì potrebbe permettere le prime nevicate fino in pianura sull'Emilia centro-occidentale. Questo quando i primi fiocchi già nella serata di lunedì tra Piacentino e Permense ma poi sarà nella notte e soprattutto il risveglio della giornata di martedì a vedere la possibile presenza di fiocchi di neve fino al piano sull'Emilia. Ancora è molto presto per scendere nei dettagli perché è da vedere l'esatta posizione della perturbazione, la situazione termica ma al momento potrebbe nevicare per la prima volta in questa stagione in pianura tra Piacenza e Modena tratti forse fino a Bologna martedì mattina. Ma siamo ancora molto lontani quindi maggiori dettagli nei prossimi giorni. Per questo appuntamento è tutto, buon proseguimento da Andrea Raggini.